Eccoci e bentornati sul mio canale! Torniamo a parlare del DLC Ashlands in arrivo il prossimo 31 di marzo su Call of Duty Advanced Warfare e andiamo ad analizzare la quarta mappa prevista in questo pacchetto attesissimo DLC. La mappa è Chop Shop. Allora in questa mappa dovremo pensare rapidamente mentre ci dovremo fare strada attraverso il complesso industriale che ospita il mercato nero degli. I soscheli triveremo coinvolti in rapine sparatorie in questa mappa simmetrica dalle dimensioni possiamo dire medie. Ma la cosa veramente molto interessante di questa mappa è la score streak, la serie di punti. Che cosa accadrà? Potremmo prendere il controllo addirittura della torretta a repulsione avanzata. Questa torretta emanerà un vero e proprio raggio mortale ad onde elettromagnetiche che ci permetterà, che ci proprio aiuterà a sbloccare aree chiave della mappa. Veramente molto interessante questa score streak che mi incuriosisce come quell'altra che avevamo già visto nella mappa Site 244. Ma ovviamente non appena disponibile DLLC Ascendance andremo ad analizzare sia in partita privata che in live anche questa mappa Chop Shop per analizzarla in tutto e per tutto ma soprattutto anche la serie di punti. Fatemi sapere intanto voi che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook e ci diamo tanti nuovi video sempre qui e sempre sul mio canale. Grazie.